Rituals, prossimamente su Odeon Ti voglio baciare Faccio quello che mi pare Tutto quello che c'è qui dentro è mio Maria, prossimamente su Odeon È necessario che io, che io ti dica il segreto della tua vita Papà No Papà Maria, prossimamente su Odeon Rituals, prossimamente su Odeon Emma, prossimamente su Odeon